ma buongiorno no anche stamattina è arrivato lo stronzo nucleare no no ma almeno te li ti chiedisci me anche stamattina è arrivato lo stronzo nucleare ma che è atomico stronzo stronzo mannaggia il cronistra ma non ti c***o di battere ma che è ma come che è ma che stai fa che stai fa anche stamattina è arrivato lo stronzo nucleare no ma perché lo stronzo atomico eccolo guardatelo anche stamattina è arrivato ma chi so io no tu sei il capo di stronzo che ha la bandierina dal culo ma perché ma perché ma come perché me cosa di biscotto mi hai rotto tutto ma che c***o stai fa mi fanno schifo perché il record di vittoria perché si fa morire fami è aumentato il metano è aumentata la corrente è aumentato i scopini e le bollette alla fine del mondo è aumentata la benzina e dimmi quel che non è aumentato e la pensione è sempre quella e quindi quando fa no e qui che stanno nel governo e quindi questi politici quando fa rubano mannaggono per loro e fanno morire fama d'annuiano oggi si è incazzato si adesso metterlo lì che questo va bene questo fa bene che leggono quindi oggi sei in polemica vuoi sfruttare i canali social per sta in polemica però c'è anche ragione eh eh e beh quindi che vorresti dire ai politici quando ruba meno quindi dai politici che gli vuoi dire quando gli affanculo quando gli affanculo 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 come? ma vaffanculo anche tu no le tutti affanculo stafattina è la giornata nazionale internazionale e vaffanculo quindi da te ti piace la politica? no no da me piace la figa come? eh eh oh come eh come come è fatta? come lo chiameresti il tuo partito? eh? la figa è buona partito la figa è buona secondo me potrebbe essere interessante e quali sarebbero i punti? firma la tua dichiarazione dire prima cosa il pelo eh? ah certo belle sono quelle che hanno il pelo nero lungo e riccio quindi solo un punto c'è su sto partito vero? vabbè non fanno qual'altro ma quelle sono meglio meglio quelle meglio dunque per essere in politico con i fiocchi mi devo fare una bella acconciatura eccola questa io fru è questo lei ha pure la possibilità se io sono un cliente che lei non è fermate dio ca ma beh che è? ma sei scemo? per essere in politico c'è da vero vattene dio no no siamo lì a fare questa mia di me? no c'è la cristoteca che ti guarda sono sempre di più loro e tu sei uno ma ti volevo fare i capelli guarda come ti apparecchi oggi apparecchi tutto io ma non apparecchi apparecchi